Benvenuti in un nuovo video, inizia già a far caldo in questa stanza oggi siamo qui per provare le barrette proteiche di Enervit Enervit è un marchio che in passato ho già avuto modo di conoscere principalmente per i biscotti ma oggi siamo qui per provare le barrette io ne ho acquistate 4, le ho prese sul sito di Eaf Store sapete che io non ci collaboro con Eaf Store non si pronuncia neanche così, però lasciate stare ma ho visto che sul sito ci sono vari scontisti ci sono vari sconti, quindi è veramente un sito che conviene tanto la linea in questione che andremo a provare Gymline Muscle questa comunque ci sono varie barrette di varie linee c'è pure quella lì High Protein che ne sono nero è il 50% di proteine, ci sta l'Energy e così via comunque sono tutte 4 senza glutine lo strato sopra, quindi la copertura al cioccolato al latte alcuni al cioccolato al latte, alcuni al cioccolato fondente comunque la prima è il gusto cookie allora vi voglio dire un attimo i valori per barretta quindi per 55 grammi questa è quella lì con il 36% di proteine comunque per 55 grammi, quindi per barretta 208 calorie, grassi 8,7 carboidrati 20 grammi di cui zucchero 1,1 di cui poi le olie 18,6 proteine 20 grammi quindi andiamola a vedere nel dettaglio il cioccolato al latte si sente tanto mi devo anche muovere perché si sta iniziando a sciogliere si sente tanto ma il biscotto mamma mia sento anche un po' di vaniglia wow è veramente buona ovviamente io dopo vi farò la classifica che vi volevo dire ma che mi sono dimenticata se volete anche un video un po' generale perché comunque Enervit ha anche il sito ufficiale e ci sono veramente tanti 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 prodotti fatemi sapere se vi può interessare una recensione generale anche dei biscotti perché so che molti li utilizzate io prima li utilizzavo tanto anche io sono veramente ottimi però comunque nel corso degli anni sono usciti tanti nuovi gusti fatemi sapere se vi può piacere anche la recensione delle barrette ma anche delle altre linee fatemi un po' sapere perché so che specialmente i video recensioni delle barrette vi servono sempre non ne sono mai abbastanza perché ne escono veramente di continuo e voi mi dite Giulia noi le vogliamo provare però vogliamo prima una tua recensione quindi per questo fatemi un po' sapere questa questa la sto guardando da prima mi ispira tantissimo ovviamente sempre il 36% di proteine copertura fondente questa volta le barrette sono anche senza olio di palma ma il gusto è red fruit quindi frutti rossi andiamola a vedere i valori spezzate se sono uguali non vedete si raga cambia una sciocchezza quindi è inutile che sto qui per tutte e quattro barrette a ripetervi i valori quindi andiamola a vedere la retta ma anche l'altra si presenta divinamente proprio come sulla confezione io sento tanto proprio lampone cioccolato fondente ci sta da Dio guarda molto non mi ricordo il marchio potete trovarlo da Lidl della Milbo no non mi ricordo comunque lo yogurt a lampone ecco mi ricorda tanto quel retrogusto di quello yogurt il cioccolato fondente si sposa veramente da Dio è un gusto veramente ottimo sapete che io sono molto di parte adoro i gusti fruttati mi piacciono di più rispetto a un gusto cookie i gusti fruttati sono la mia vita però sapete anche che i gusti fruttati nei prodotti proteici non sempre riescono al 100% perché solitamente tendono sempre con quel retrogusto chimico quindi però devo dire che è molto buono almeno io non sento un gusto forte chimico ma sento un gusto di lampone molto bilanciato con il cioccolato fondente quindi adesso bevo direi di passare ad una meno particolare per poi concludere con la barretta particolare andiamo avanti con il gusto ciocco vaniglia sui vaniglia io sento proprio un odore di cioccolato ovviamente anche questa è ricoperta di cioccolato fondente mi piace che ha questo strato chiaro che vabbè in questo caso latte ma amiglia poi ha uno strato centrale che divide i due gusti crunchy mi piace troppo easy molto semplice come lo so sento anche una punta di caffè forse mi sto colisciando mi fa impazzire niente di che cioè sinceramente è molto buono però tra tutte e tre per il momento io preferisco gli altri due gusti rispetto a questo ma questo comunque è un gusto molto classico sempre con copertura fondente a gusto cocco questo è stato a due minuti con il braccio così per farvi vedere l'interno non metterò più a fuoco e tu vabbè ritorno nella mia postazione che sicuramente sarà ancora sfocata allora il gusto di cocco si sente un cocco molto finto però rispecchia il gusto sì perché il cocco si sente e si sente anche bello forte infatti proprio perché si sente bello forte sembra proprio quel cocco finto sinceramente tra tutti e quattro gusti vi faccio direttamente la classifica la classifica è sempre personale fatemi sapere se voi ovviamente le avete provate se le avete provate anche tutte e quattro oppure c'è anche qualche altro gusto che io non ho preso perché sul sito non c'è o io non l'ho visto comunque fatemi sapere la mia classifica è forse il primo posto mi sento di mettere red fruit quindi frutti rossi secondo posto cookie terzo posto ciocco vaniglia e ultimo posto cocco e quindi nulla io spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando questa settimana è uscito un video in meno ma dalla settimana prossima ci saranno tanti video ho veramente ancora tanti prodotti da provare sapete che io sono sempre una però ho tanti altri prodotti da provare proteici quindi mettetevi comodi e quindi nulla io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao